Ha abusato delle tre nipotine per dieci anni, in manette un 71enne di Fasano è accusato di violenza sessuale su minori. Le vittime hanno trovato la forza per denunciare le violenze raccontando tutto alle maestre. Nuova seduta del Consiglio Provinciale a Brindisi, diversi punti all'ordine del giorno, tra i quali il programma di mandato del Presidente e il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della provincia. Boom di partecipanti a Taranto, città che viene confermata per il prossimo anno e tappa primaverile a Brindisi per l'edizione 2020. Tra bilancio in novità le parole del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su Medimex. Presentata questa mattina la non-edizione della regata Brindisi-Valona con la presenza del Presidente nazionale della Lega Navale Italiana, l'ammiraglio Maurizio Gemignani. Completati i primi lavori sull'asfalto in diverse zone di Brindisi in corso, anche il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Bilancio positivo per la quinta edizione della Fiera dell'Auto di San Michele Salentino, oltre 20.000 i visitatori in dieci giorni. Brindisi festeggia la Prodo in Serie D, la gioia di mister Massimiliano Liviere al termine della gara di Agropoli. Mi piacerebbe restare a Brindisi la prossima stagione. Benvenuti e ben ritrovati a questa edizione di 100 Notizie Brindisi. In apertura parliamo di cronaca abusato delle tre nipotine per circa dieci anni, manette un 71enne di Fasano accusato di violenza sessuale su minori. Le vittime hanno trovato la forza per denunciare le violenze, raccontando tutto alle maestre. E' accusato di aver abusato per circa dieci anni delle tre nipotine. Un nonno di 71 anni di Fasano è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri e indagato per violenza sessuale su minori. Due delle nipote all'epoca dei fatti avevano meno di dieci anni, la terza meno di quattordici. Secondo quanto ricostruito, gli episodi di violenza sarebbero cominciati nel 2009 con la maggiore delle tre si sarebbero ripetuti anche sulle altre due fino all'aprile del 2019, avvenuti quando le tre bambine venivano affidate temporaneamente ai nonni. Le vittime hanno raccontato a scuola quanto accaduto, si sono rivolte alle loro insegnanti spiegando che per paura, quando restavano a dormire dal nonno, in più di una circostanza hanno dovuto chiudere a chiave la porta della stanza. Le bambine sono state ascoltate anche da un consulente della Procura della Repubblica di Brindisi. Le investigazioni hanno consentito di ricostruire e cristallizzare il drammatico vissuto delle tre piccole vittime. Il ripetersi nel corso degli anni delle gravi condotte ha dimostrato l'incapacità dell'indagato di contenere gli impulsi sessuali e ha rivelato un concreto pericolo della reiterazione degli stessi reati. Nuova seduta del Consiglio Provinciale a Brindisi, diversi punti all'ordine del giorno, tra i quali il programma di mandato del Presidente e il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della provincia. Una nuova seduta del Consiglio Provinciale di Brindisi, sono diversi i punti all'ordine del giorno, intanto si parlerà del mandato della Presidente, sono tanti punti, possiamo riassumere o almeno indicare quelli più rappresentativi? Sì, innanzitutto un chiarimento che vogliamo portare avanti insieme anche all'UPI nazionale, che è quello del ruolo delle province. Siamo ovviamente in una situazione in cui è bene chiarire quali sono le funzioni e quali sono le risorse per queste funzioni, perché ce ne sono due importantissime, che sono la sicurezza stradale, la sicurezza nelle scuole, negli istituti superiori, rispetto ai quali occorrono, se queste funzioni vengono confermate, occorrono le risorse necessarie. Un rilancio dell'aria vasta, una riorganizzazione dell'ente, delle partecipate, la possibilità di definire delle linee guida in relazione a tanti processi, ad esempio adesso ne parlavamo anche con alcuni consiglieri, il fotovoltaico che arriva nuovamente nei territori, insomma ridare un luogo di confronto valorizzando ad esempio l'assemblea dei sindaci che mi sembra uno dei quei luoghi in cui tutti i territori possono essere rappresentati in un confronto importante appunto sull'aria vasta brindisina. Tra i punti all'ordine del giorno anche il piano di razionalizzazione delle partecipate della provincia. Sì, perché in questi mesi il Ciasu, che è l'organismo di alta formazione universitaria che ha sede a Fasano, ha ricevuto dalla regione 3 milioni di euro per un finanziamento di ristrutturazione, quindi noi facciamo una modifica al piano di riorganizzazione e manteniamo la nostra presenza nei prossimi tre anni per garantire la ristrutturazione del sito e poi speriamo che possano partire anche le attività. Un altro tema su cui si sta discutendo proprio in questo momento è quello relativo all'infiteusi che è molto sentito nel territorio, cioè sappiamo che c'è questo strumento medievale rispetto al quale conduttori di terreni agricoli ma anche persone che hanno costruito su alcuni suoli in realtà non ne sono del tutto proprietari proprio perché c'è questo strumento che va avanti da secoli e chiediamo con questo ordine del giorno la formazione poi di un tavolo con i parlamentari una proposta di legge che possa chiarire finalmente come superare questa legge a mio avviso medievale dell'infiteusi. Questa mattina ho fatto dei sopralluoghi in città per seguire i lavori del Verde effettuati dalla Brindisi Multiservizi, queste le parole le del primo cittadino del comune capoluogo Riccardo Rossi attraverso il proprio social, il proprio profilo ufficiale sul social network facebook, si sta intervenendo al quartiere Paradiso, allo sfoltimento degli oleandri sulla pista ciclabile del parco Cilarese, allo sfalcio della Iola, all'incrocio tra via Appia, via Torpisana e via Osanna, al quartiere commenda la crescita dell'erba a causa delle temperature e delle piogge abbondanti, è imponente, il processo va sicuramente ottimizzato ed è per questo che sto personalmente supervisionando, l'erba verrà tolta in tutti i quartieri, sarà mia premura aggiornarvi e garantirà più presto il lavoro completo, queste le parole di Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi. Cambiamo argomento, boom di partecipanti a Taranto, città che viene confermata per il prossimo anno e tappa primaverile a Brindisi per l'edizione 2020 tra bilancio in Novitale, parole del presidente della regione Puglia Michele Emiliano su Medimex. Nel 2020 per la prima volta Medimex farà tappa a Brindisi, una spring edition dal 19 al 26 aprile che realizza la visione di un festival itinerante che di anno in anno offre ai territori della Puglia una straordinaria opportunità di promozione attraverso la musica. Ad annunciare la novità è stato il presidente della regione Michele Emiliano in occasione della conferenza stampa di chiusura dell'evento che ha portato a Taranto 80.000 presenze, boom di spettatori con sold out in alberghi e ristoranti ma anche numeri record sui social. Medimex continua a Taranto e prosegue per Brindisi, un Medimex del grande Salento che cercherà di insistere nell'utilizzare la forza rivoluzionaria della musica per ridare speranza, autostima e voglia di futuro alle nostre città. Questo grande evento è diventato per noi quasi un metodo, un metodo di vita in cui accanto alle grandi battaglie per l'ambiente, per la salute, per l'economia, per non far scappare i nostri giovani fuori dalla Puglia con la cultura, con investimenti in grandi eventi, grandi happening come quello del Medimex restituiamo alla bellezza delle città pugliesi una conoscibilità da parte di tutti. Tanti ieri mi dicevano ma Taranto è bellissima e io ho risposto loro Taranto è stupenda e anche Brindisi è meravigliosa e insieme a queste due città del grande Salento saranno lo scenario del Medimex del 2020. Presentata questa mattina la non edizione della regata a Brindisi Valona con la presenza del Presidente nazionale della Lega Navale italiana, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, vediamo il servizio realizzato da Anna Sabonaro. 1991-2019, 28 anni di fratellanza, dialogo fra l'Albania e la Puglia. Dagli sbarchi degli anni 90 sono passati quasi 30 anni ma nel frattempo quel rapporto fra le due sponde dell'Adriatico è cresciuto e da nove anni viene celebrato con un evento sportivo. La regata Brindisi Valona organizzata dalla Lega Navale italiana sezione di Brindisi. Questa mattina conferenza stampa di presentazione dell'evento che si darà dal 4 al 7 luglio prossimi. La nona edizione in realtà è la seconda con la nuova formula che prevede l'arrivo a Valona, la premiazione e la festa nella città di Valona. La novità di quest'anno è che l'ormeggio degli equipaggi e quindi anche l'arrivo della regata sarà proprio davanti la città di Valona, mentre l'anno scorso la base logistica e l'arrivo fu a Oricum. Quest'anno invece abbiamo trasferito tutta la regata, compresa la regata della Baia di Valona che si svolgerà il sabato mattina. Abbiamo concentrato tutto proprio davanti nelle acque e entri istanti la città di Valona. Vogliamo ricordare i particolari del percorso, quali sono? Sì, il percorso che prima in origine quando è nata la regata era praticamente la circonnavigazione dell'isola di Seseno e il rientro a Brindisi, quindi per un percorso di totali 140 miglia ed era una regata abbastanza dura e nacque addirittura per equipaggi composti da solo due persone. Poi è stata estesa, allargata equipaggi completi e adesso da soli due anni è previsto solo il tragitto, la rotta di andata con l'arrivo a Valona. Lo sfondo emozionale di questa competizione sportiva che accomuna e rende il dialogo sempre costante fra l'Italia e l'Albania. Sì, noi abbiamo voluto ricordare in occasione del ventennale dello sbarco degli albanesi a Brindisi del 91 e nel 2011, appunto la prima edizione a distanza di vent'anni dallo sbarco degli albanesi, serviva proprio a ricordare quell'evento e a ripercorrere quella rotta nel senso opposto, però con un altro spirito, quindi completamente diverso, uno spirito sportivo che serviva anche a sviluppare il tentativo è quello di introdurre il diporto nautico e la vela in particolare anche in Albania. Hanno partecipato alla conferenza stampa moderata dal collega Antonio Celeste, il presidente della Lega Navale Italiana, ammiraglio Maurizio Gemignani, il presidente dell'ottava zona FIV, Alberto Lategole, l'assessore allo sport del comune di Brindisi, Oreste Pinto. Sequestro dei carabinieri forestali a San Pietro Vernotico, uno stabilimento vinicolo ha scaricato in terreni agricoli i reflui attraverso una condotta abusiva di 250 metri. I carabinieri forestali di Brindisi hanno sottoposto a sequestro penale probatorio dopo gli accertamenti del caso, una condotta di polietilene ad alta densità della lunghezza di circa 250 metri che convogliava periodicamente in terreni agricoli, in agro di San Pietro Vernotico, i reflui provenienti da un impianto di trattamento di uno stabilimento vinicolo. Lo scarico è risultato non autorizzato, pertanto i militari hanno apposto i sigili affidandone la custodia giudiziale al responsabile della produzione dello stesso stabilimento. Trattandosi di reflui presumibilmente non pericolosi, poche già depurati e che per la loro periodicità non avrebbero provocato un inquinamento permanente del suolo, è stato applicato ai trasgressori il beneficio previsto dalla legge 68 del 2015, nel caso che gli stessi rispettino una serie di obblighi entro 30 giorni, interruzione permanente dello scarico, bonifica dell'aria se vi è stato superamento di valori soglia di inquinanti, regolarizzazione dello scarico se mantenuto, potranno definire in via amministrativa la contravvenzione, evitando così la denuncia all'autorità giudiziaria. Aeroporti di Puglia comunica che è stato pubblicato un avviso finalizzato alla ricerca di operatori quali affidare in regime di sponsorizzazione l'ideazione delle divise degli accessori per il proprio personale addetto ai servizi di assistenza ai passeggeri e aeromobili. L'invito per l'ideazione delle divise è rivolto a designer, stilisti e anche emergenti alle scuole di moda del territorio pugliese che dovranno ideare e realizzare i bozzetti delle nuove divise. Anche attraverso l'avviso per l'ideazione delle nuove divise destinate ai nostri addetti di scalo, spiega il presidente dell'aeroporto di Puglia Tiziano Onesti, vogliamo testimoniare l'attenzione con la quale operiamo a favore delle imprese pugliesi. Siamo infatti fermamente convinti che i nostri aeroporti, sempre più attrazione internazionale, siano un formidabile strumento di promozione e valorizzazione delle aziende particolarmente attive del nostro territorio. Per questo abbiamo deciso di rivolgerci a tutti gli esperti del settore moda, rigorosamente made in Puglia, senza trascurare i giovani stilisti e le scuole di moda per i quali questo avviso può essere un vero e proprio trampolino di lancio. I bozzetti e i modelli proposti, secondo quanto pubblicato sull'avviso online fino al prossimo 30 luglio sul sito www.aeroportidipuglia.it dovranno essere frutto di uno studio delle linee dei tessuti mirati alla cura del disegno e alla dovizia dei particolari che rifletta non solo lo stile e l'identità di aeroporto ma anche l'impegno di aeroporti di Puglia quale azienda moderna e radicata al territorio. Ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi per la seconda parte di 100 notizie, parleremo ovviamente anche di sport e quindi di calcio. Seconda parte di 100 notizie brindisi, completati i primi lavori sull'asfalto in diverse zone del comune capoluogo, in corso anche il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Sono in corso e in parte sono già terminati alcuni importanti interventi che riguardano il settore lavori pubblici. Nelle scorse settimane sono stati effettuati lavori di rifacimento dell'asfalto che riguardano via Portalecce, via provinciale San Vito e un tratto di viale Palmiro Togliatti all'altezza di via Erpinia. Sono in corso invece interventi sull'illuminazione pubblica che riguardano la sostituzione dei corpi luminosi nei quartieri Perrino e La Rosa, mentre si sta provvedendo a implementare quella del lungomare Regina Margherita. Saranno sostituite anche le lampade che erano state asportate e quelle danneggiate all'interno di alcune oiole. Si sta lavorando anche sul rifacimento dei marciapiedi al quartiere Sant'Elia e non appena terminati questi lavori si realizzerà il collegamento pedonale tra via Cappuccini e l'ospedale Perrino. Si tratta di un'opera importante che permetterà ai cittadini di raggiungere l'ospedale attraverso un passaggio pedonale dedicato. La città ha bisogno di tanti interventi, spiega l'assessore ai lavori pubblici di Ziana Brigante e stiamo lavorando senza sosta per garantire a tutti i quartieri la stessa attenzione. Per via Portalecce e via provinciale San Vito abbiamo imposto lavori notturni affinché i cittadini non avessero disagi per la viabilità e quando saranno terminati i lavori dell'acquedotto pugliese faremo lo stesso anche per rifare il manto stradale in via del mare. Bilancio positivo per la quinta edizione della Fiera dell'Auto a San Michele Salentino. Oltre 20.000 i visitatori in 10 giorni. Vediamo tutti i dettagli nel servizio realizzato da Anna Saponaro. La realtà è che in sostanza tutti sono rimasti molto soddisfatti dalla varietà delle vetture e si sono un po' persi tra le nostre macchine. Fortunatamente per loro hanno sicuramente trovato quello che desideravano. Oltre 20.000 visitatori in 10 giorni. Numeri importanti per un bilancio più che soddisfacente per la Fiera dell'Auto di San Michele Salentino. Iniziativa che si è tenuta nella zona PIP organizzata da otto titolari di autosaloni del posto che quattro anni fa si sono consorziati dando vita a Gestauto Group. Una realtà frutto di un percorso comune diventata simbolo di affidabilità e qualità. La quinta edizione dell'evento ha chiuso i battenti lunedì. Quest'anno qualche giorno in più come è andata? Benissimo, è un'esperienza da rifare perché abbiamo visto che tanti tantissimi clienti sono venuti a trovarci anche nei giorni infrasettimanali per cui siamo veramente soddisfatti ma credo soprattutto sono più soddisfatti i nostri clienti. Insomma negli anni 5 edizioni possiamo concludere dicendo che è diventato un appuntamento fisso per tutti coloro che intendono acquistare un'auto. Sì sì questo l'abbiamo notato. Tanta gente infatti già da qualche giorno prima ci chiedeva quando era la fiera perché abbiamo visto che proprio gente che è arrivata un po' da tutta la Puglia anche in qualche caso anche oltre la Puglia molto molto piacevolmente soddisfatti da tutto quello che è stato creato in questa fiera dell'auto. Torna l'Appia dei Brindisi dal 14 al 16 giugno numerose iniziative culturali nel comune capoluogo. Il 14, 15 e 16 giugno torna l'Appia dei un evento nazionale giunto alla sua terza edizione voluto dall'associazione Brindisi le antiche strade presieduta da Rosi Barretta con il supporto della Camera di Commercio di Madeira Bike Tour e dall'associazione Le Colonne. L'iniziativa è finalizzata a rivocare le antichi faste di Brindisi per rinnovare nei cittadini specie nei più giovani un sano orgoglio di appartenenza con l'auspicio che si possa concorrere tutti insieme a costruire un futuro altrettanto illustre. In occasione della Piedeiva era organizzato un tour in bicicletta seguendo un percorso che dalla via Traiana porterà fino al comune capoluogo lungo la via Appia. Appuntamento sabato 15 giugno alle 15 e 30 presso la stazione ferroviaria di Cisternino Pozzo Faceto per immergersi nel cuore della piana degli Ulivi fatta di moretti a secco e uliveti secolari raggiungendo il tracciato della via Traiana. Si attraverserà il parco delle dune costiere tra masserie storiche fortificate e il dolmen di Montalbano poi un percorso lungo 20 chilometri immerso negli Ulivi per poi raggiungere la costa e continuare in direzione Brindisi tra macchia mediterranea e alberi d'eucalipto. L'arrivo in città presso la scalinata Virgilio è previsto al tramonto per i partecipanti, una degustazione enogastronomica a base di prodotti tipici. Inoltre il 14, 15 e 16 giugno ogni sera dalle 18 ci sarà un tour di conoscenza del territorio curato dall'associazione Le Colonne. Per l'occasione in tutte e tre le giornate le colonne romane saranno illuminate con i colori ocra e blu a simboleggiare la terra e il mare, il cammino dei pellegrini che giungevano a Brindisi, terminale della via Appia e che poi si imbarcavano per mare per proseguire il loro percorso verso oriente proiettando il visitatore all'interno di una nuova dimensione. E ora torniamo a parlare di San Michele Salentino che è sempre più un comune cardioprotetto. È stato installato un nuovo defibrillatore per la comunità. Un nuovo defibrillatore a disposizione della comunità di San Michele Salentino è stato donato a conclusione della tradizionale ciclo passeggiato organizzata da Tonino Pace, Giuseppe Ligorio e Lino De Donno con il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'importante strumento salvavita già posto in piazza Marconi, dichiara il sindaco Giovanni Allegrini, servirà a rendere San Michele un paese cardioprotetto e garantirà il più possibile la protezione e l'aiuto ai cittadini o ai turisti che incorreranno in problemi di salute per i quali è necessario il ricorso proprio a un defibrillatore. In base alle statistiche in Italia si registrano 60.000 decessi l'anno per arresto cardiaco e grazie ai defibrillatori semiautomatici si calcola che almeno nel 35% dei casi le persone potrebbero essere salvate. Il fattore tempo è dunque determinante e avere a disposizione uno strumento salvavita a poche centinaia di metri è fondamentale per il soccorso. Con il contributo volontario dei partecipanti alla ciclo passeggiata è stato possibile acquistare questo strumento salvavita. Tantissimi bambini accompagnati dai genitori, tanti amanti delle due ruote, tanti sportivi, singoli cittadini, si sono dati appuntamento in piazza Marconi per il tradizionale evento e che si è snodato per le principali arterie cittadine colorato dall'armonia e dall'allegria di grandi e bambini. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito al buon esito dell'iniziativa, conclude Allegrini, dagli organizzatori alla Polizia Municipale, ai miei concittadini sensibili, non solo allo sfondo ecologico che rappresenta questa manifestazione ad un momento importante di socialità ma soprattutto per l'obiettivo benefico della stessa iniziativa ovvero la donazione del defibrillatore a disposizione della comunità. Per il funzionamento dello strumento ci attiveremo nei prossimi giorni per formare tutti i titolari degli esercizi pubblici del centro proprio per avere operatori pronti all'intervento in caso di necessità. GAL Terre del Primitivo, una serie di iniziative per la promozione del territorio di Brindisi e Taranto. Rendere i comuni delle province di Taranto e Brindisi vere e proprie destinazioni turistiche partendo anche da una risorsa come il vino Primitivo di Manduria. E' questo l'obiettivo del GAL Terre del Primitivo che guarda i neoimprenditori e le location del gusto grazie a due nuovi bandi, uno in fase di scadenza, l'altro sarà aperto a breve. Con l'intervento B4.1-4.2 destinato alle start-up verrà sostenuta la nascita di nuove realtà sia imprese non agricole che persone fisiche che siano innovative e utilizzino la produzione tipica come il veicolo di comunicazione delle eccellenze locali. Con la misura B4.3 invece si guarda la promozione dei prodotti tipici anche nei luoghi di produzione delle imprese agricole. Sono finanziabili anche percorsi esperienziali che potranno diventare elementi di un percorso enogastronomico da inserire nel Museo Diffuso delle Terre del Primitivo che è la linea guida del piano di azione locale finanziato sino al 2023 e che punta alla collaborazione fra imprenditori e alla creazione di reti. Crediamo che la sinergia commenta il presidente Dario Dagiano sia la strada giusta senza dimenticare la promozione oltre i confini territoriali attraverso il sostegno per attrezzature informatiche e strumenti per l'e-commerce. Come GAL stiamo portando avanti una strategia di sviluppo che attribuisce valore all'identità alle persone intese come capitale sociale al patrimonio culturale. Da un lato dunque la creazione di nuove aziende e dall'altro una nuova fruizione di quelle già presenti. In entrambi i casi si tratta di progetti a supporto dell'offerta turistica integrata. Il Brindisi Calcio festeggia la promozione in serie D. Torniamo nel post partita di Agropoli, la gara che ha garantito l'accesso nella categoria superiore. Vediamo la gioia di mister Massimiliano Olivieri al termine della gara, anche dichiarato, mi piacerebbe restare a Brindisi la prossima stagione. Vediamo l'intervista realizzata da Fabrizio Caglianello. Mister, torniamo al giorno che sei arrivato a Brindisi. Pensavi di poter vivere queste emozioni? No, sinceramente non pensavo, però ci speravo. Perché dopo le delusioni dell'anno passato con questa società, con l'Agropoli, dove veramente anche siamo andati fino alla fine e c'è stata veramente una delusione coccente. Anche se veramente ho fatto una grande esperienza, però speravo di avere un'altra chance. Il Brindisi me l'ha data, questi ragazzi sono stati veramente grandi perché ormai ci avete seguito. Noi abbiamo, è stato un continuo, sempre rincorrere, ribaltare e quindi abbiamo meritato, sinceramente abbiamo meritato nelle due gare contro l'Agropoli di meritare veramente la Serie D, anche perché noi abbiamo iniziato un po' così, in sordina. Abbiamo avuto un po' di paura nel giocare, ma noi sappiamo che quando giochiamo mettiamo in mezzo l'avversario. Loro hanno fatto un po' di trame di gioco, giravano palla sugli esterni, però non è che hanno concluso più di tanto. Alla fine io credo che dalla punizione del gol, loro hanno fatto gol sul calcio di rigore. Però comunque merito anche a questi ragazzi dell'Agropoli che ci hanno messo tutto. Un plauso va a quei ragazzi perché si sono comportati benissimo in campo, come d'altronde quelli del Brindisi. È stata veramente una partita bella, ecco, combattuta. Io ho detto in telecronaca è stato un film, non è stata una partita. È stato un film, sì. Il film questa volta ha avuto un leto fine dopo la coccente sconfitta. Oddio io venivo da delusioni. Finale di Coppa Italia con il Vieste, persa Castellana con Casarano. Mancato vittoria il campionato col Vieste, Francavilla vinse il campionato. Due finali persi l'anno scorso con l'Agropoli. Rispondimi. Ti piacerebbe restare a Brindisi? Ma io lavoro per restare a Brindisi, poi dipende da tante situazioni. È tutto per questa edizione di 100 Notizie a Brindisi. La parte tecnica è stata curata da Dario Spagnolo e Alessandro Colavito. Un cordiale saluto e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Grazie a tutti.